Gianni Fava, che cosa avete chiesto in audizione agricoltura? Cosa si hanno chiesto loro? Nel senso che in realtà le domande rivolte al Presidente riguardavano il livello e lo stato d'attuazione delle tematiche concernenti l'agricoltura in funzione dell'Expo del 2015. Diciamo che i commissari ci hanno incalzato per vedere se evidentemente se eravamo preparati, ma credo che da questo punto di vista non c'erano problemi. L'attività di Regione Lombardia in questi sei mesi si è caratterizzata fortemente per aver scelto questo tipo di iniziativa come un'iniziativa prioritaria. Per noi l'Expo del 2015 è prioritario perché va nella direzione di tutte quelle che sono le scelte politiche che vogliamo portare avanti anche nel comparto della Fiera e dell'Aroalimentare. Per quanto riguarda l'Expo sarà tutto pronto? Per quanto riguarda l'Expo io immagino di sì, nel senso che queste però sono competenze che prescindono un po' dalla volontà di Regione Lombardia. Oggi c'è un alto commissario che si occupa di tutta la gestione dell'operatività e che di fatto risponde direttamente al Governo. Noi ci siamo preoccupati in queste settimane, in questi giorni, io sono Redo, c'è una missione a Londra proprio in queste ore, di riempire l'Expo di contenuti. Noi vogliamo che l'esposizione internazionale in realtà non si limiti a una specie di fiera di paese, ma che si trasformi in uno strumento in ambito del quale si possa discutere, dibattere, di prospettive che riguardano l'Aroalimentare, in particolare il tema della tutela dei nostri prodotti, della lotta alla contraffazione dei nostri prodotti, della lotta all'Italian Sounding, del diritto che hanno i prodotti del Made in Italy di poter essere rispettati in giro per il mondo.